qualche dato di qualcuna che mi sono portato dietro, ma non in originale, perché gli originali devono stare negli archivi. Allora abbiamo Roverbella, a Roverbella ci va il 28 febbraio 1886 e siamo a un anno dopo il suo ingresso a Mantua. Allora a Roverbella quanti abitanti ci sono? Proviamo a guardare subito. Quanti sono gli abitanti adesso di Roverbella? Quanti? A quel tempo erano 1370, erano ben poche, c'era il paroco con il curato e il paroco dice ogni domenica all'ora stabilita si spiega la dottrina cristiana, sarebbe stato il pomeriggio, me lo ricordo ancora anch'io, che alla mattina c'erano le messe e al pomeriggio c'era la dottrina cristiana per gli adulti. Poi il quadro di Roverbella del tempo dice esistono le scuole elementari comunali, però nelle scuole non si insegna dottrina, infatti era così a quel tempo, non si poteva insegnare. A Roverbella c'era la confraternita del Santissimo Sacramento e poi cosa possiamo dire? Vi è la scuola della dottrina cristiana maschile e femminile, pensate che lì a Roverbella personale che insegnava la dottrina cristiana che accoglieva i ragazzi che li assisteva e quant'altro, erano 100 persone, 100 adulti che seguivano i ragazzi e le ragazze, 100, erano 60 donne e 40 uomini. Il vescovo Sarto finita la visita ha mandato una lettera al parroco dicendole manifesto la mia compiacenza e tutta la mia contentezza per il molto bene che ho trovato a Roverbella e ho trovato a Roverbella e ho trovato a Roverbella in tutte le parrocchie della Forania, perché a Roverbella ci è andato non proprio come ultima, ma come per l'ultima parrocchia, perché prima è andato a Pelleloco, a Castiglione-Mantovano, a Canedole, a Malavicina, a Malavicina, no Malavicina ci è andato dopo, un giorno dopo, comunque dice le manifesto la mia compliacenza e tutta la mia contentezza per il molto bene che ho trovato a Roverbella e in tutte le parrocchie della Forania, pregando il Signore perché conforte della sua benedizione quanti concorrono al trionfo della fede.